Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia. Tempo dunque via via più variabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 18 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto con inizialmente qualche schiarita ma con crescenti annuvolamenti nel corso della giornata. Possibili precipitazioni poi verso sera e nella notte. Temperature con lievi e locali variazioni, minime sui 6-11 gradi, massime comprese tra 14 e 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo poche novità. Più sole al mattino col passare delle ore, cielo coperto e grigio. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 16-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso con possibili deboli piogge, anche in questo caso a partire dalla sera. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 16-19 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.